Buongiorno a tutti, siamo nella fiera internazionale del bovino da latte di Cremona, questa è l'edizione del 2019 e questa è una della serie dei workshop di luminanza, quindi saluto a voi che siete fisicamente presenti e anche chi in questo momento ci sta seguendo nella diretta Facebook, quindi un saluto anche a voi. E quindi possiamo iniziare questo workshop da un titolo strano e su un argomento anche che potrebbe apparentemente non essere interessante, perché alla fine il selenio lo conosciamo molto bene come oligo elemento, più o meno i fabbisogni di selenio, sono stati descritti il famoso 03 ppm, ormai è nella consagliutina di tutti noi nutrizionisti, però a mio avviso quando ci siamo parlati con Claudio Vezzani che è il direttore tecnico di SEO Italia e anche un mio amico di ormai non facciamo le date Claudio perché qui se no andiamo fuori, insomma ci siamo detti, ma il problema del selenio c'è, ma secondo me per due motivi sostanziali, forse tre. Il primo è chiaro che la terra, diciamo soprattutto in alcune aree italiane e in particolare quella dove siamo presenti, non integriamo noi, non concimiamo con il selenio, per cui la sottrazione di selenio dal terreno è continua, è ormai costante, lo vediamo anche dalle analisi XRF che vengono fatte o dal terreno delle piante, insomma che la concentrazione del selenio negli alimenti zootecnici è in continua diminuzione. Dall'altra parte poi c'è queste vacche che stanno diventando effettivamente molto esigenti e quindi diciamo il selenio poi ce lo spiegheranno abbondantemente gli ospiti di questo incontro, entra in alcuni processi metabolici fondamentali dell'organismo e il nostro atleta metabolico che è la vacca da latte insomma a volte si trova in estrema difficoltà. Chiaramente le frontiere del selenio sono trovare delle vie di assorbimento alternative alle forme inorganiche, no Claudio? Perché alla fine della fiera poi è questo e quindi credo che l'integrazione di selenio in forma inorganica sia soprattutto per dare una mano che non è assolutamente trascurabile a quella che è il microbioma ruminale perché comunque anche lui ha un potente e sempre più forte fa bisogno di selenio ma comunque noi dobbiamo far arrivare il selenio nella vacca da latte in modo che lei le possa distribuire sulle funzioni metaboliche fondamentali. Per cui io credo che questo workshop alla fine della fiera sia molto interessante, non della fiera e quindi sia molto interessante e siamo anche molto curiosi di sapere. Quindi abbiamo con noi ospiti quindi Michele De Marco che è Global Scientific Technical Manager di SEO, ci fa molto piacere perché e ci dà come orgoglio perché è un connazionale quindi parlerà in italiano perché è italiano e Claudio Vezzani direttore tecnico di SEO Italia che si alterneranno. Cercheremo di utilizzare bene quest'ora di tempo che abbiamo, dobbiamo chiudere assolutamente alle 11.30 perché proprio per le connessioni eccetera, però prego gli ospiti di informarci ma anche di aprire anche una discussione che vi aiuterò anch'io con i molti colleghi presenti qui ma anche i colleghi presenti su Facebook non li possiamo per il momento ascoltare, però in qualche modo di partecipare a una conversazione. Per cui io direi, inizi tu Claudio. Sì, farò una breve introduzione al collega Michele che come ha anticipato Alessandro è il nostro responsabile tecnico a livello internazionale per quanto riguarda il selisseo, quindi questa nuova forma di selenio organico. Da parte mia io vengo dal campo, quindi come tu ben sai Alessandro ho calcato le stalle fino a poco tempo fa e da pratico, da alimentarista, da nutrizionista, esperto di vacca da latte, sicuramente ho ben noto qual è l'importanza del selenio all'interno dei mangimi, degli integratori e l'utilità che sicuramente ne può avere per la vacca in latazione. I momenti in cui la vacca può andare incontro a stress sono tanti, oltre allo stress metabolico esistono tanti fattori di stress all'interno della carriera produttiva della vacca, a partire dal parto, l'asciutta, la transizione, i primi due mesi di latazione, la necessità di essere ingravidata velocemente. In tutte queste fasi rientrano dei processi ossidativi che sono legati allo stress e ovviamente l'utilizzo del selenio può concorrere a alleviare o comunque dare all'animale tutti gli strumenti necessari per controbilanciare l'insorgenza di questo stress. Detto ciò, come accennava Alessandro, il compito dell'industria, dell'industria che fa ricerca, l'industria di additivi è quella di provare a individuare delle fonti di selenio tali che garantiscono una biodisponibilità più elevata possibile. Tutti sanno che per semplificare i veterinari utilizzano il selenio inorganico tramite la via iniettabile. Questo è un modo molto pratico e efficace per garantire all'animale l'effettiva quantità di selenio necessario. Attraverso l'alimentazione oggi è possibile, attraverso lo sviluppo di queste nuove forme di selenio organico, riuscire ad ottenere i medesimi risultati attraverso l'alimentazione senza nemmeno l'utilizzo e il bisogno di dover ricettare questi prodotti iniettabili. Quindi Selisseo rappresenta la terza generazione del selenio organico. Io mi ricordo già nel lontano 2006 mi ritrovavo a presentare la seconda generazione del selenio organico che era rappresentata dall'introduzione sul mercato dei lieviti selenizzati e oggi con piacere sono qui ad introdurvi la terza generazione del selenio organico, ovvero la forma pura, la forma attiva del selenio organico, quella che assolutamente è la più biodisponibile e quella che può garantire all'animale anche una riserva interna di selenio, ma per questo vi spiegherà meglio il dottor De Marco. L'ultima cosa è un cenno legislativo e normativo, anche la normativa sta andando incontro a quelle che sono le scelte tecniche commerciali di chi ha interpreso, quindi la via delle forme pure del selenio organico, in quanto non sarà più possibile in futuro cartellinare sui mangimi e sugli integratori i selenio organici da lieviti come selenometionina. Voi sapete bene che i selenolieviti contengono solo una parte di selenometionina e fino ad oggi risultava possibile poter scrivere sui cartellini fonte di selenio organico da selenometionina. Da domani non sarà più possibile e questo sarà solo possibile con le forme pure di selenometionina come selisseo. Quindi anche la normativa va incontro alla trasparenza in questo senso per garantire all'allevatore, ai veterinari e ai tecnici e agli alimentaristi la correttezza per quanto riguarda le effettive quantità del principio attivo che sono presenti nel mangino. Detto ciò io passo la parola a Michele, mi auguro anche che ci possa essere un ampio dibattito comunque qualsiasi tipo di domanda, di richiesta, di informazioni, di interazioni è ben accetta. Una la faccio già io. Claudio tu sai bene che noi stiamo cercando in questi 11 workshop che abbiamo organizzato in supporto a questa fiera così importante che meriterebbe sicuramente la maggiore attenzione da parte di tutti perché questa è la fiera internazionale del bovino da latte, questa è la nostra esibition in un settore dove stiamo dimostrando una potenza non indifferente perché insomma il settore lattiero gas e cambiario italiano in questo momento è visto come gold standard a livello mondiale sia per l'export sia per tutta la serie di motivi che voi siete tutti i tecnici e operatori ben sapete. In questa fiera qui abbiamo aperto una riflessione generale per cercare di capire nei vari workshop e voi vedete tutti hanno un filo conduttore di capire se c'è la possibilità di trovare un equilibrio fra la performance perché non è un'attività obbistica la produzione del latte e la sostenibilità. La sostenibilità era prima un tema un po' naif era un tema diciamo da gente probabilmente che aveva del tempo libero da impiegare adesso è diventata una importante diciamo tappa, una sfida fondamentale che non abbiamo poi molto tempo per risolverla. Tu dirai Gladio perché sto dicendo questo? Lo sto dicendo perché abbiamo fatto per esempio ieri un workshop con Fadro su come sta evolvendo il consumo degli antibiotici in Europa e come sta evolvendo il consumo degli antibiotici in Italia anche a fronte dell'introduzione della ricetta elettronica perché si è innestato questo ragionamento? Cioè noi gli animali li dobbiamo curare perché questo è il benessere primario. Fino adesso abbiamo tutti abusato di tutto, abbiamo abusato di antibiotici, di nutrienti, abbiamo abusato di tutto perché era così, adesso non possiamo più abusare di nulla. Per cui a un certo punto argomenti di nutrizione clinica, questo è un argomento di nutrizione clinica, poi qualcuno la chiama nutrizione funzionale, poi ognuno fa le definizioni. Questi argomenti sono fondamentali perché nel momento in cui come sta avvenendo dobbiamo rallentare quelle pratiche di metafilassi sistematica, che sono la terapia sistematica con gli antibiotici alla messa in asciutta, gli antibiotici sostanzialmente utilizzati a tappeto nei primi giorni di vita dei vitelli, la profilassi o metafilassi della metrite puerperale fatta con gli antibiotici, sono tutte pratiche che appartengono ormai al passato. Per cui questi additivi, questo modo di confezionare degli additivi normalmente presenti in natura rappresenta questo il vero interesse. Per questo è molto importante Claudio, queste puntualizzazioni. Io ti ringrazio Michele, facci capire bene questa cosa qui. Buongiorno a tutti, è un piacere per me oggi essere qua e avere la possibilità di presentare questa nuova fonte di Selenio e ringrazio anche Claudio e il dottor Fantini per l'introduzione. Per me andare avanti le slide. Piccolo problema tecnico. Grazie. Quindi oggi presenterò la selenio metodina idrossi analogo come la perfetta integrazione di selenio organico nella vacca da latte. Io come detto mi occupo a livello globale di supporto tecnico per questa fonte innovativa di selenio organico. Ma veniamo un po' agli argomenti caldi di questa discussione. Come ha detto il dottor Vezzani, la vacca da latte va incontro ogni giorno in allevamento a differenti tipi di stress. Siano stress nutrizionali, con sprendente micotossine, ambientali come per esempio l'estate con alte temperature, stress tecnologici, quindi interazioni sociali, procedure di mongitura, inseminazione. E poi ci sono stress sanitari che sono legati a infezioni batteriche, malattie e alle vaccinazioni. E anche a stress fisiologici e biologici, come per esempio il periodo di riproduzione, il picco di lattazione e il periodo interparto. E tutti questi stress cosa causano? Sono una fonte di stress ossidativo. E lo stress ossidativo è definito come uno stato in cui l'ossidazione supera i sistemi entossidanti del corpo portando a una perdita di equilibrio tra di loro. Quindi cosa succede? In caso di stress abbiamo una produzione più elevata delle cosiddette specie reattive dell'ossigeno, i cosiddetti radicali liberi. Ed è per questo che supplementiamo normalmente le nostre diete con degli antiossidanti. Questo per mantenere un bilancio ottimale tra produzione di molecole ossidanti e gli antiossidanti. Cioè nonostante quando questa supplementazione non è ottimale o quando per esempio abbiamo un'ingestione che diminuisce, abbiamo uno sbilanciamento nell'organismo. E quindi andiamo incontro a uno stress ossidativo moderato dove abbiamo un'elevata produzione di ROS con uno squilibrio ossidativo corporeo e prestazioni produttive e riproduttive che vengono impattate. Oppure possiamo avere uno stress ossidativo intenso dove c'è una produzione incontrollata di radicali liberi e si ha una propensione più alta alle malattie e nei casi più estremi abbiamo degli eventi di mortalità degli animali. Questo stress ossidativo causa molte conseguenze negative nel ciclo produttivo della vacca da latte. Può avere un effetto negativo sulla fertilità, in particolare sulla qualità del seme, una qualità più bassa nel colostro, quindi con delle diarrene non natali e una mortalità non natale più elevata. Inoltre può avere un impatto sulla parte produttiva, quindi con una produzione più bassa, con un alto livello di cellule somatiche e la presenza di mastiti. Tutti eventi che causano un impatto economico negativo a livello aziendale. Quindi il sistema evolutivo nel corpo ha sviluppato il cosiddetto sistema antiossidante, nelle bacche da latte ma nell'uomo è la stessa cosa, dove il sistema antiossidante è veramente come un team, un team di calcio dove ci sono differenti giocatori che giocano un ruolo fondamentale in questo team e giocano veramente insieme con l'unico scopo di detossificare l'organismo da queste molecole reattive. Quindi in questo sistema abbiamo la vitamina E, i carotenoidi, i flavonoidi, la vitamina C e poi abbiamo il selenio che è stato definito dal professor Peter Suray, che è il più grande ricercatore nel campo del selenio, come l'amministratore delegato del sistema antiossidante e vedremo perché è così importante. Quindi il selenio amministratore delegato del sistema antiossidante. Come nutrizionisti quando parliamo di zolfo pensiamo a due aminoacidi, metionina e cisteina. Lo stesso parallelo dovrebbe essere fatto quando parliamo di selenio perché a livello corporeo il selenio è presente su forma di due aminoacidi, la selenometionina e la selenocisteina. Possiamo riassumere dicendo che in tutti gli animali ci sono 25 geni che codificano per 25 selenoproteine e queste selenoproteine contengono almeno una selenocisteina nel loro sito catalitico dando a queste selenoproteine capacità enzimatiche, capacità antiossidanti e infatti tra queste 25 selenoproteine abbiamo per esempio la glutatione perossidase che è un enzima antiossidante che è implicato nel sistema glutatione e vedremo come lavora nel detossificare l'organismo dai radicali liberi. Quindi come detto a livello corporeo abbiamo la selenometionina che è la cosiddetta forma di stoccaggio del selenio. Perché? Se voi guardate la molecola è esattamente la stessa molecola di una metionina. La sola differenza è che c'è un selenio che rimpiazza lo zolfo ed è per questo che una volta assorbita l'organismo questa selenometionina può essere non specificatamente inserita nella sintesi proteica e quindi determina uno stoccaggio di selenio a livello di tutti i tessuti, muscoli, latte, sangue e crea appunto queste riserve di selenio a livello corporeo dell'animale. E poi abbiamo la selenocisteina che è il ventunesimo aminoacido. Questa selenocisteina non può essere apportata per via alimentare ma c'è un codice genetico che codifica per la sintesi di questa selenocisteina che è poi il precursore della sintesi delle 25 selenoproteine che come detto hanno un'azione antiossidante ma sono anche implicate nella modulazione del sistema immunitario e del sistema infiammatorio. Quindi perché il selenio è definito l'amministratore delegato? Il sistema antiossidante ha tre livelli di difesa. Abbiamo un primo livello dove c'è la prevenzione della formazione dei radicali liberi, come vediamo ci sono due enzimi che non sono selenodipendenti, la superossido di smutasi, la catalasi, ma abbiamo già la glutatione perossidasi che è una selenoproteina. Ma quando il livello di radicali liberi è molto elevato, il primo livello non è sufficiente quindi abbiamo il secondo livello antiossidante dove ci sono altri giocatori di questo team. Abbiamo la vitamina E, la vitamina C, i carotenoidi, ma ancora una volta abbiamo due selenoproteine, la glutatione perossidasi e la teoridossina reduttasi. E poi una volta che queste molecole sono state ridotte, abbiamo dei prodotti che sono delle molecole ossidate che devono essere o eliminate dall'organismo o riparate. E ancora una volta abbiamo altri attori di questo sistema antiossidante, ma ritroviamo nuovamente il selenio su forma di metionina sulfoxidreductasi, che è un'altra selenoproteina che è implicata nel sistema di riparazione della metionina ossidata. Quindi come vedete, a differenza di tutti gli altri antiossidanti, il selenio è il solo oligoelemento presente a tutti i livelli di difesa del sistema antiossidante. E poi inoltre, come vediamo, il selenio lavora in sinergia con altri antiossidanti. Infatti la vitamina E è un antiossidante fondamentale, importantissimo, che è capace di ridurre l'agnone lipoperossido in perossido lipidico, ma questo perossido lipidico è ancora una molecola reattiva e può essere solamente ridotta in acqua e in alcol come molecola non più reattiva solamente da una selenoproteina che è la glutatione perossidasi. Quindi la vitamina E fa solamente una parte del lavoro, il 50%, l'altro 50% deve essere terminato da una selenoproteina. Quindi c'è veramente un gioco di squadra e un'interazione tra queste molecole. Ora veniamo ad argomenti più pratici, quelli che interessano un po' più i mangimisti e gli allevatori. Quindi le fonti di selenio presenti sul mercato. Abbiamo tre generazioni, come detto ci sono le forme minerali inorganiche, forme storiche, che sono molto economiche ma sono solamente adatte per evitare carenze in selenio. Poi dal 2006 sono arrivate sul mercato la seconda generazione, come ha detto il dottor Vezzani, che sono i cosiddetti lieviti selenizzati. All'epoca fu una rivoluzione nell'alimentazione del selenio perché erano le prime fonti di selenio capaci di apportare parte del selenio su forma di selenometionina, quindi la forma stoccabile del selenio. Ma queste fonti hanno il limite che essendo prodotte per fermentazione riescono ad apportare solamente in media il 60% del selenio su forma di selenometionina. E dal 2014 sono arrivate sul mercato la cosiddetta terza generazione, che sono le cosiddette forme pure di selenio. Queste forme sono prodotte per sintesi chimica, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il selenio apportato da queste fonti è su forma di selenometionina, quindi la forma più biobi disponibile è la sola forma che può essere poi stoccata a livello dell'organismo. Quindi vediamo un po' le differenze anche di assorbimento tra organico e organico a livello ruminale. Una volta ingerite, la differenza tra un selenito di sodio e un selenio organico su forma di selenometionina è che il selenito è molto più reattivo e quindi in ambiente ruminale subisce una riduzione microbica in selenio elementare. Quindi una parte di selenito di sodio diventa insolubile, quindi non più assorbibile e non riesce poi ad arrivare all'intestino. Mentre quando forniamo del selenio organico su forma di selenometionina i microbi ruminali riescono a utilizzare questa selenometionina per formare proteina microbica che poi bypassa e va a livello intestinale dove può essere assorbita e può aumentare il livello di assorbimento e di stoccaggio del selenio. Un esempio anche qui per spiegarvi come avviene l'assorbimento delle differenti fonti di selenio. Quando forniamo all'animale selenito di sodio vediamo che innanzitutto c'è un assorbimento di tipo passivo, di diffusione passiva. Ovviamente anche il selenito, mentre il seleno minerale ha un trasporto attivo quindi utilizza la stessa via metabolica della metionina, quindi è un assorbimento migliore. Poi il selenito di sodio partecia ovviamente anche lui alla sintesi della selenocisteina e delle 25 selenoproteine ma è solamente capace di coprire i fabbisogni istantanei di selenio. Quindi la parte che non è utilizzata viene immediatamente excreta via feci e urina. Ciò nonostante quando invece forniamo selenometionina, in particolarmente in sua forma pura, abbiamo una sintesi più elevata di selenocisteina e quindi anche una sintesi più elevata di selenoproteine, quindi una copertura antiossidante maggiore e la peculiarità è che la parte che non è utilizzata per coprire i fabbisogni immediati non è excreta come un selenio minerale ma viene stoccata rimpiazzando la metionina. Quindi è per questo che riusciamo a stoccare e creare queste riserve a livello corporeo di cui poi l'animale può farne uso quando i suoi requisiti in selenio aumentano. Ricordiamo che la supplementazione di selenio è limitata, in Europa siamo a 0,2 ppm per chilo di alimento, quindi non possiamo aumentare la supplementazione a nostro favore quando prevediamo che l'animale possa avere dei fabbisogni più alti. Quindi avere questo stoccaggio aiuta l'animale a utilizzare queste riserve corporee a piacere quando i suoi requisiti aumentano. Questo è ben dimostrato, infatti si vede in queste, ci sono molte pubblicazioni che dimostrano come quando forniamo selenio inorganico a livello di microflora ruminale il livello di selenio rimane stabile ma quando forniamo selenio su forma organica, su forma di selenometionina abbiamo un arricchimento della microflora ruminale in selenio e in selenometionina e l'assorbimento, la proporzione di selenio incorporato nei microrganismi microbici su forma di selenometionina si ha 7 volte più di assorbimento rispetto a un selenito di sodio. Ora vediamo un po' le differenze tra le forme. Perché ho messo questa foto un po' scioccante? perché effettivamente ci sono più e più evidenze scientifiche che dimostrano che il selenito di sodio è una forma sì che riesce a coprire fa bisogno ma allo stesso momento è una forma altamente tossica. Innanzitutto reagisce facilmente con la vitamina C creando del selenio elementare che non è più assimilabile, cosa che non avviene quando forniamo selenio su forma organica. e un'altra caratteristica è che il selenito di sodio nel suo processo di metabolizzazione grazie alla glutatione subisce differenti riduzioni e queste riduzioni portano anche alla creazione e alla sintesi dell'anione superossido che è un radicale libero. Quindi questo processo spiega la tossicità di questa forma di selenio. E poi come detto abbiamo le forme organiche e vediamo un po' le differenze tra una forma pura e dei lieviti. Come detto i lieviti è una fermentazione, quindi un processo biologico di produzione e sul mercato abbiamo differenti qualità di lieviti. Abbiamo lieviti che riescono ad apportare circa fino a 70% di selenio su forma di selenometionina, ma anche lieviti con dei livelli molto bassi di selenometionina. E poi nei lieviti abbiamo questo circa 40% di selenio che ci domandiamo che cos'è? Cosa c'è oltre questo 60% di selenometionina? E c'è una pubblicazione che dimostra che in questo 40% ci sono fino a 50 diverse forme di composti in selenio che però non sono biodisponibili come la selenometionina. Quindi si comportano a livello metabolico esattamente come un selenio inorganico. Sono utilizzati per cui vede fabbisogni immediati ma non sono stoccabili a livello dell'organismo. Mentre quando ci torniamo di fronte a una forma pura vediamo che tutto il selenio, quindi il 100% del selenio apportato è su forma di selenometionina o nel caso del prodotto di adisseo su forma di selenometionina idrossi analogo. Quindi adisseo ha sviluppato nel 2014 il selisseo che è una selenometionina idrossi analogo. Sapete che il core business di adisseo è la produzione di metionina liquida, quindi idrossilato di metionina e abbiamo brevettato un processo per rimpiazzare lo zolfo con una molecola di selenio per produrre questo additivo, questa forma pura di selenio. Quindi è un prodotto altamente puro perché quando analizziamo il prodotto finale in HPLC vediamo che c'è solamente un picco. Cosa vuol dire? Che l'unica molecola presente nell'aditivo è idrossilato di selenometionina. Se facessimo la stessa analisi con un lievito avremmo un picco principale per la selenometionina e poi tanti altri picchi che rappresentano tutte le altre forme di selenio presenti. E poi una forma 100% affidabile. Cosa vuol dire? Che grazie alla sintesi chimica l'otto per l'otto fornisce sempre il 100% di selenio su forma di selenometionina. Invece quando ci troviamo di fronte a dei lieviti vediamo che non perché sono dei prodotti scadenti ma perché c'è questo processo di disfermentazione che non è standardizzato quindi tra prodotto a prodotto e anche all'interno dello stesso prodotto da un lotto all'altro c'è una forte variabilità per il livello di selenometionina che può causare delle deficienze in selenio quando l'animale ne ha più bisogno. Quindi è una cosa che non si può veramente controllare. E poi è una fonte 100% efficiente. L'abbiamo testata in bovini da carne e in vacche da latte confrontando il selenio con un selenio lievito e del selenito di sodio e vediamo che dopo giorni di supplementazione la forma pura riesce sempre a determinare un trasferimento significativamente maggiore sia nel latte che nei muscoli che nei tessuti. Ora se diamo un'occhiata alle differenze tra un selenito di sodio e un selenometionina nei ruminanti vediamo che il selenito di sodio è scassamente assorbito perché come detto a livello ruminale diventa parzialmente insolubile mentre la selenometionina ha una migliore biodisponibilità e subisce meno alterazioni a livello ruminale. Circa solamente il 3% di selenito viene incorporato a livello di microbi ruminali mentre la selenometionina è altamente utilizzata dalla flora microbica ruminale. Il selenito non fornisce riserve corporee di selenio mentre la selenometionina determina elevate riserve corporee in selenio. Come detto il selenito reagisce con zolfo e vitamina C determinando la creazione di selenio elementare quindi selenio non più biodisponibile e la selenometionina mentre è una moleca molto stabile e non reattiva. Inoltre il selenito ha un basso trasferimento nel latte mentre la selenometionina ha un trasferimento del latte eccellente sia nel latte che nel colostro. Ricordate che il latte è un ottimo marcatore per valutare lo stato in selenio dell'animale. Cosa vuol dire? Possiamo pensare che il latte è una via di estrazione del selenio in parte è vero ma è anche vero che se arricchiamo il colostro in selenio avremo il nostro vitello che assumerà del selenio appena dopo la nascita quindi avrà uno stato in selenio migliore quindi una più alta produzione di selenoproteine che lo aiutano a combattere in modo più efficiente lo stress ossidativo nel primo periodo dopo la nascita e inoltre è un modo non invasivo per valutare lo stato in selenio e lo stato antiossidante della vacca. Ora volevo mostrarvi giusto qualche risultato su alcune prove che abbiamo effettuato comparando selisseo con altre forme di selenio. Questa è una prova che abbiamo effettuato in Cina nel 2016 ed è stata pubblicata su Journal of Diary Science nel 2017. In questo caso abbiamo trattato tre trattamenti con dieci repliche quindi dieci animali per trattamento 12 settimane alimentati con una dieta non supplementata in selenio, una dieta supplementata con 0,3 mg per chilo di alimento di selenito di sodio e 0,3 mg di selenio su forma di selisseo. Cosa abbiamo visto? Prima di tutto abbiamo analizzato il selenio nel plasma e nel latte per vedere il trasferimento di selenio. Come vedete sia nel plasma che nel latte abbiamo un trasferimento altamente significativo in selenio nelle vacche alimentate con il metonismo analogo. Inoltre abbiamo anche valutato dei marcatori antiossidanti quindi l'attività della glutazione perossidasi nel siero e la capacità di ossidante totale nel siero delle vacche. Come vedete grazie a una forma di selenio altamente disponibile si hanno dei livelli di glutazione perossidasi e capacità antiossidante totale significativamente superiori rispetto a un selenio minerale, a un selenito di sodio. Questa invece è un'altra prova effettuata l'anno scorso in collaborazione con l'università di Ridi e con il professor Darren Juniper. In questo caso volevamo valutare il trasferimento di selenio dalla madre dalla vacca al vitello. Anche in questo caso una dieta carente in selenio quindi senza alcuna supplementazione. Il selenio di base apportato dalle materie prime era di 0,029 mg di selenio quindi molto bassa e la stessa dieta è stata poi supplementata con 0,3 mg di selenio su forma di selenito o 0,3 mg di selenio su forma di selisseo. Quindi inizio della prova, tutti gli animali con la stessa dieta carente in selenio iniziamo il trattamento con le tre diete, prelievi di sangue durante la supplementazione e poi prelievo di sangue sulla vacca del colostro e sul vitello subito dopo il parto. Quindi a tre settimane dal parto abbiamo prelevato il sangue dalle vacche e abbiamo effettuato l'analisi del selenio e ancora una volta abbiamo dimostrato come con la forma pura riusciamo a massimizzare il trasferimento di selenio nel sangue e nel plasma delle vacche supplementate. Poi per spiegare su che forma è questo selenio nel sangue e nel latte abbiamo fatto la cosiddetta analisi di speciazione del selenio quindi abbiamo cercato di capire su questo selenio in che forma è su forma di selenocisteina, quindi su forma di selenoproteine o su forma di stoccaggio. Come vedete tra selenito di sodio e selisseo il livello di selenoproteine è equivalente quindi di selenocisteina, la differenza in selenio è data dal maggiore stoccaggio di selenio su forma di selenometionina, quindi questo vuol dire che fornendo all'animale una forma organica una parte viene utilizzata sì per la sintesi delle selenoproteine ma la parte che non è utilizzata viene stoccata e poi utilizzata dall'animale in un secondo tempo. La stessa cosa l'abbiamo fatta sul colostro, immediatamente dopo il parto abbiamo prelevato del colostro e analizzato il colostro per il selenio e come vedete ancora una volta il colostro delle vacche supplementate con selisseo aveva un livello significativamente superiore in selenio e allo stesso modo abbiamo fatto la speciazione per capire e cercare di comprendere questo selenio su che forma era e sorprendentemente rispetto al sangue della vacca abbiamo visto che in questo caso la selenometionina rimaneva più o meno costante tra i trattamenti, la differenza era sul livello di selenocisteina quindi sul livello di selenoproteine. Sappiamo che il colostro è un veicolo per trasmettere dalla madre al vitello immunoglobuline ma anche antiossidanti e in questo caso sembra evidente un trasferimento via colostro di selenoproteine quindi di antiossidanti capaci di aiutare il vitello nei primi momenti dopo la nascita per meglio combattere lo stress ossidativo a cui va incontro subito dopo la nascita. e questo poi l'abbiamo anche visto, abbiamo misurato poi anche i livelli di selenio nel plasma dei vitelli e ancora una volta i livelli di selenio nel plasma dei vitelli che avevano assunto colostro da madre alimentate con selisseo era significativamente superiore rispetto ai vitelli che erano nati da vacche supplementate in selenito di sodio. Ora un'ultima prova di uno studio effettuato da un ente di ricerca indipendente in questo caso in questo caso è stato utilizzato un modello di stress da caldo su vacche da latte in produzione quindi vacche da latte alimentate con selenito di sodio o selisseo 0,3 mg per chiave di alimento e le vacche sono state in primo momento mantenute in un comfort termico quindi a 20 gradi con 55% di umidità relativa e in un secondo tempo sono state stressate con uno stress termico ciclico aumentando la temperatura per 6 ore al giorno a 36 gradi centigradi e per 6 ore al giorno abbassandola a 32 gradi quindi per creare uno stress termico, un'ipertermia. Quindi ci sono stati 9 giorni di razione comune 28 giorni di alimentazione con le due fonti di selenio in una situazione di comfort termico e poi 9 giorni di stress termico. Prima di tutto sono state analizzate se il modello funzionava cosa vuol dire? E' stata misurata la temperatura rettale di tutti gli animali in situazione di comfort termico e in situazione di stress e come vedete quando gli animali sono in situazione di stress termico c'è la temperatura rettale che aumenta significativamente la frequenza respiratoria che aumenta significativamente la produzione di latte che diminuisce significativamente e anche alcuni marcatori di stress ossidativo che aumentano in modo significativo. Detto ciò, hanno poi analizzato il selenio nel siero del latte ancora una volta a un livello significativamente più alto di trasferimento di selenio nel siero e anche nel latte c'era un 71% più di selenio nel latte quindi ancora una volta un migliore trasferimento. Ma la cosa molto interessante è qua infatti gli animali in stress termico hanno ridotto significativamente per entrambi i gruppi di ingestione di sostanza secca come vedete non c'è alcuna differenza significativa tra i due gruppi. Ciò nonostante il gruppo che è stato alimentato con questa fonte pura di selenio organico quindi capace di diminuire lo stress ossidativo derivante dallo stress da caldo ha mantenuto una produzione di latte più elevata circa 9% in più di produzione di latte rispetto agli animali alimentati con selenio di sodio quindi grazie a questa ridotta a questa più alta capacità antiossidante gli animali riescono ad avere meno danni a livello della mammella a livello della produzione di latte riuscendo a mantenere un livello di produzione più elevata anche in situazioni di stress da caldo. La stessa cosa è stata poi evidenziata quando sono stati misurati dei biomarcatori dello stress ossidativo quindi la capacità antiossidante è stata mantenuta significativamente più alta nel gruppo di vacche alimentate con seleseo e allo stesso modo i livelli sanguini per ossido di idrogeno e di ossido di azoto erano significativamente più bassi del circa il 20% rispetto alle vacche alimentate con selenio inorganico o selenio minerale. Questi sono dei risultati anche in questo caso di un cliente in Nuova Zelanda come ha detto il dottore in precedenza ci sono molte aree del mondo in Italia compresa dove il selenio del suolo è molto basso quindi in Nuova Zanni in particolare in Australia dove gli animali passano la maggior parte del tempo al Passo quindi la loro fonte principale di alimento è il foraggio ci sono dei forti problemi di fertilità dovute a una carenza in selenio quindi prima che arrivasse questa fonte di selenio che è presente anche su forma liquida si utilizzavano delle iniezioni di selenio con scarsi risultati quando siamo arrivati in questo mercato con il seleseo su forma liquida è stata la prima forma di selenio capace per essere supplementata anche nell'acqua di bevanda e questi sono i risultati su un allenamento di capre da latte in Nuova Zelanda come vedete prima della supplementazione di selenio i livelli di selenio erano molto bassi e appena le capre vengono supplementate via acqua di bevanda con il nostro selenio organico si ha dei livelli significativamente più elevati di selenio nel latte e questo è ancora una volta è un ottimo marcatore per valutare lo statuto in selenio dei nostri animali al pascolo o in azienda quindi per concludere differenza tra selenio minerale e organico il selenio di sodio come detto ha un basso assorbimento ed è potenzialmente prossidante e tossico quindi bisogna fare molta attenzione al suo utilizzo e anche evitare errori di supplementazione perché possono essere veramente deleteri per le nostre produzioni il selenio organico grazie alla prendera di selenio su forma di selenio metionina è altamente assorbito e andiamo incontro a un effetto dose più ne forniamo più aumentiamo il trasferimento nei tessuti tutte le forme organiche non sono equivalenti attenzione al livello di selenio metionina come abbiamo visto i lieviti apportano circa il 60% di selenio su forma di selenio metionina mentre le forme pure apportano il 100% di selenio sulla forma più biodisponibile è importante che solamente il selenio su forma di selenio metionina determina questo stoccaggio dei tessuti di selenio creando una sorta di assicurazione mi piace utilizzare assicurazione di selenio che gli animali possono poi utilizzare quando i loro fabbisogni aumentano benefici della selenio metionina come detto alta biodisponibilità migliore stato in selenio elevata deposizione dei tessuti ricordati il latte è un ottimo biomarcatore non invasivo per valutare lo stato in selenio della vostra azienda dei vostri animali la selenio metionina determina un'elevata sintesi di selenio proteine quindi un migliore potenziale antiossidante ottime capacità riproduttive quindi un'aumentata fertilità aumentati i concepimenti e poi appunto un trasferimento ottimale di selenio dalla vacca al vitello quindi per riassumere l'importanza di stoccare selenio su forma di selenio metionina come detto la supplementazione di selenio è fatta ormai in default nei nostri alimenti quindi il selenio viene assorbito a livello intestinale nel fegato c'è il cosiddetto processo di transenelazione dove le forme di selenio vengono trasformate in selenio cisteina e poi in selenio proteine ma quando forniamo selenio su forma di selenio metionina abbiamo detto che una parte la parte che non viene utilizzata immediatamente nel fegato viene stoccata nei muscoli creando queste riserve poi nel fegato abbiamo la sintesi delle 25 selenio proteine e difesa antiossidante ma quando abbiamo uno stress pensiamo all'estate stress da caldo prima adattamento dell'animale e riduzione dell'ingestione siamo limitati in supplementazione di selenio quindi avendo questo stoccaggio cosa succede? in stress da caldo si ha più stress ossidativo c'è un più alto catabolismo delle proteine quindi c'è della selenio metionina che viene rilasciata nuovamente in circolo e rientra nel processo di transselenazione del fegato riuscendo a mantenere anche quando l'ingestione diminuisce e quindi l'ingestione di selenio diminuisce riesce a mantenere la sintesi delle 25 selenio proteine mantenere più alta la difesa antiossidante e mantenere prestazioni riproduttive e produttive più elevate rispetto a un selenio organico quindi il messaggio chiave è più selenio riusciamo a stoccare su forma di selenio mitolina più assicuriamo delle prestazioni ottimale nell'animale in caso di stress ossidativo elevato vi ringrazio per l'attenzione questa è la gamma che abbiamo ad oggi su Selissea abbiamo un prodotto concentrato al 2% di selenio quindi utilizzare DIA premix un prodotto diluito allo 0,1% può essere utilizzato direttamente in mangiunificio e siamo l'unica azienda a livello globale a avere un selenio organico su forma liquida quindi la sola azienda deve avere della selenio mitolina su forma liquida che può essere utilizzata per un'utilizzazione in acqua di bevanda quindi una strategia differente di utilizzazione per esempio al pascolo o via acqua di bevanda in periodi di stress da caldo quando l'animale ovviamente diminuisce l'ingestione ma aumenta l'ingestione di liquidi grazie per l'attenzione se avete domande siamo qua per Michele gelo io le domande grazie complimenti molto chiara ovviamente è un argomento da ruminare però ti volevo chiedere alcune cose perché noi siamo purtroppo NRC è fermo al 2001 speriamo che a breve insomma ci sarà la nuova edizione perché siamo un po' orfani di linea guida quindi proprio fulmine per così poi sentiamo anche qualche altra considerazione dei colleghi qui in sala 0,3 ppm io ti direi 0,3 ppm in situazione standard quando l'animale non è stressato però quando abbiamo per esempio in estate stress da caldo in tutto il periodo dell'interparto di transizione in quel caso ci sono evidenze scientifiche che mostrano per esempio che i livelli plasmatici di vitamina E nei giorni precedenti al parto e successivi al parto diminuiscono quindi e anche diversi marcatori dello stato ossidativo sono sbilanciati e quindi in quel caso ci sono più e più evidenze che mostrano che i livelli di selenio in determinate momenti della produzione possono arrivare fino a 0,5 0,6 ppm ti faccio un esempio ci sono paesi dove non c'è questa alimentazione Brasile Asia abbiamo degli studi dove supplementando delle vacche a 0,6 ppm fino a 0,9 siamo arrivati non abbiamo visto alcun livello di tossicità con questa forma organica e un impatto positivo sulla fertilità e sulle prestazioni che inducono a pensare che appunto i livelli di selenio fino ad oggi stabiliti non sono esattamente quelli esatti anche perché abbiamo delle genetiche che si evolvono degli animali che come detto sono degli atleti e hanno dei requisiti che vanno aumentando non solo in selenio ma anche in altri oligoelementi una seconda domanda anch'essa a Michele chiaramente nella sai adesso nella alimentazione di precisione si stanno facendo le liste cioè in una lista ci sono gli additivi e i nutrienti di comprovata efficacia poi c'è la lista magari dei prodotti emozionali però ormai con il dilagare rapido della precision feeding ovviamente dobbiamo mettere nella lista solo ciò che è di comprovata efficacia e nella dose diciamo tra virgolette indispensabile la seconda domanda è questa io allevatore che ho latteria che voglio intraprendere la strada dell'alimentazione di precisione fino alla certificazione fino al claim quale metodica voi consigliate per determinare se il livello di integrazione di selenio della dieta è corretta o meglio quale biomarker si può utilizzare anche non in campo ovviamente però se ne può spiegare una diffusione di rutine per capire in questa situazione metto una concentrazione di selenio in un'altra magari un'altra in modo da superare parte il problema legislativo dello 0,3 ppm guarda il concetto è questo come hai detto siamo limitati a questo 0,3 quindi la vedo dura o meglio per il momento non ci sono prospettive per aumentare questi livelli quindi è proprio per questo che è qui che rientra l'interesse di fornire all'animale selenio su forma di selenio mettonina perché aumentando questi livelli corporei riusciamo poi ad avere un rilascio e quindi una supplementazione ulteriore da riserve corporee quando i fabbisogli dell'animale aumentano ed è chiaro che nello studio che ho mostrato di stress da caldo in quel caso l'animale aveva un'ingestione limitata quindi la sua ingestione di selenio diminuiva ma la sua produzione di latte viene mantenuta più alta perché i suoi fabbisogli di selenio sono aumentati e ha iniziato ad utilizzare le riserve corporee per mantenere i livelli di antiossidanti la copertura di antiossidanti più elevata per far sì di mantenere questa produzione in modo più elevata e come biomarcatore ti direi che il latte è un buon biomarcatore perché è un metodo non invasivo e ti dice appunto i livelli di selenio del tuo animale quindi quanto livello di selenio è stoccato nell'animale e puoi chiaramente differenziare e capire a che punto sei rispetto alla fonte di selenio che stai utilizzando precedentemente e capire se appunto la tua vacca è in un buon stato di selenio oppure no poi abbiamo il sangue ma lì è già un po' più invasivo o poi ci sono altri biomarcatori come per esempio la perossidazione lipida e poi determinare la malondialdeide che è un metabolite della perossidazione lipidica però appunto sono tutte analisi che richiedono un approccio più scientifico mentre il selenio del latte è un'analisi molto semplice è sufficiente prendere un campione dal contenitore del latte e fare un'analisi ok siamo in chiusura no infatti volevo dare la parola a voi grazie interessantissimo quello che ha detto perché riuscire a supplementare il selenio effettivamente che va da target sia per riserve sia poi per utilizzo soprattutto poi a livello come antiossidante perché oggi ne abbiamo una cistà estrema chiedo solo non sarebbe stato più interessante prolungare il periodo di stress da caldo perché noi poi i danni nell'animale li vediamo proiettarsi nell'autunno quindi non sarebbe stato più interessante aumentare i giorni che non erano solo nove ma andare più avanti perché poi alla fine nei nove giorni ne possiamo anche supporre che l'animale riesca a difendersi per natura perché la natura già l'aiuta e quindi credo che bisogna vedere questi dati ma li state facendo e la seconda domanda utilizzando il selisseo noi andiamo a nutrire benissimo il selenio il selenio una volta era proibito quindi si si metteva come con prodotti che avevano delle impurezze perché abbiamo capito avendo un po' di età di anni abbiamo capito che il selenio era utile si poteva inserire come prodotto come impurezza e nessuno diceva niente perché la legge non lo prevedeva ma quello che voglio chiedere noi nutriamo bene l'animale lo copriamo creiamo riserva benissimo ma la flora luminale che è il vero motore delle mie produzioni ed è quello che ci ha fatto poi fare dei grandissimi progressi dopo che ci hanno toto le farine animali che non potevamo più fare proteine che non potevamo fare più lati invece siamo stati bravi e siamo stati tutti stati bravi ad aumentare a migliorare migliorare la salute non si sta lavorando oppure non ci sono dati o quantomeno switchare il selenio che vada a bersaglio sulla flora luminale so che il rumine è un grande mediatore quindi non mi permette di utilizzare effettivamente il minerale come glielo do non avete pensato anche a questo cioè al nutrimento del faro luminale cioè switchare i due fabbisogni quello della vacca e quello della flora grazie innanzitutto grazie per le due domande interessantissime per rispondere alla prima come detto quello studio su stress a caldo non è stato guidato da Adisseo è uno studio indipendente che abbiamo trovato in letteratura però come vede era un modello quindi quando è un modello scientifico è un modello che ti permette di capire la problematica e dare una risposta però ovviamente adesso noi stiamo lavorando con diversi allevatori in differenti regioni del mondo in particolare in Sud America dove lo stress a caldo è molto importante e anche in Asia ovviamente su delle situazioni di campo e lì abbiamo già dei ritorni da allevatori che sono molto soddisfatti però ovviamente ha pienamente ragione ci va uno studio prolungato nel tempo per vedere tutte le dinamiche anche per vedere la cinetica di stoccaggio come diminuisce o se viene mantenuta perché poi qui sono nove giorni quando siamo di fronte a tre quattro mesi è interessante stiamo anche studiando qual è la retenzione del selenio a livello corporeo in momenti di elevato stress e prolungato rispondendo alla seconda domanda abbiamo degli studi che dimostrano che appunto riusciamo come detto a aumentare significativamente l'incorporazione di selenio nella microflora ruminale quindi questo poi ci permette di avere una migliore assimilazione ma ci siamo ancora veramente l'ambiente ruminale è ancora veramente da scoprire soprattutto quando parliamo di oligoelementi e quando parliamo di selenio che se ricordiamo viene somministrato a dosaggi veramente bassissimi e veramente anche a livello di analisi analizzare il selenio e le frazioni di selenio in liquido ruminale e nei batteri ruminali stiamo veramente lavorando sulle metodiche per standardizzare queste valutazioni e per avere una compressione più specifica e più accurata nel tempo quindi è un lavoro che stiamo facendo al momento la risposta ce la dà l'animale nei livelli corporei cosa vuol dire che se tu fornisci all'animale differenti fonti di selenio e poi riesci a misurare nei tessuti nel latte il trasferimento beh una risposta ce l'hai già lì vuol dire che a livello metabolico a livello ruminale a livello intestinale c'è un'utilizzazione differente tra differenti forme però appunto è una via che stiamo percorrendo e speriamo che magari il prossimo anno il prossimo evento ruminante riusciamo ad arrivare qua con nuovi dati e delle spiegazioni ancora più dettagliate ecco Michele non sarà necessario un anno voi siete nostri sponsor avete uno spazio quindi vi invito a appena avremo dei buoni risultati sarà nostro a tenerci anche aggiornato certo e lo dico pubblicamente così poi non potete schivare questo argomento di valutazione adesso on farm è eccessivo però di tenere alta livello di informazione sulle possibilità di un monitoraggio anche on farm certo che è diciamo il sogno di tutti noi dello status del selenio se voi avete aggiornamenti visto che siete così specializzati mandate l'articolo in poche ore lo pubblichiamo chiaramente sicuro io vi ringrazio di questo credo che sia stato un workshop interessante loro poi sono qui a disposizione dobbiamo chiudere grazie a chi ci sta vedendo via facebook grazie grazie molte grazie per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti